Ciao da Apsim! Dubbi sulla qualità di allenatore di Carlo Ancelotti? Ne abbiamo sempre avuti pochi. Può piacere, può non piacere, ma è un allenatore, assolutamente. Così come lo è Xavi, che però sta deludendo sotto molti aspetti. Non è quello che ci si aspettava, non risulta essere a tratti quello che si poteva sperare di lui, visto quello che è stato come calciatore, però bisogna dire che questa finale di Supercopa d'Espagna, Real Madrid-Barcelona 4-1 e il Classico, è stata assolutamente all'altezza delle aspettative, con tantissime cose dentro e bisogna andare ad aprire la partita per capirla, per conoscerla. Mai fermarsi, né al nome della squadra, né ovviamente al punteggio, perché in realtà non è stata una partita da 4-1, ad essere precisi. È stata una partita magari da 4-3, o da 4-2 proprio almeno, o anche tre gol magari del Real, per quanto andando a vedere i dati, oppure 4 sono assolutamente legittimati, però non è stato assolutamente assente il gioco da parte del Barcellona, fa quasi ridere pensarlo, perché parliamo di una grandissima squadra, di una grandissima partita, una grandissima finale, un torneo che è discutibile, così come lo è la Supercoppa italiana, il fatto di fare questa Final Four in Arabia, però restano squadre che hanno onorato il torneo, e abbiamo anche parlato della semifinale, del derby di Madrid della scorsa settimana, anche questa era della scorsa settimana, era di ieri, era di domenica, però entriamo in questa nuova settimana, in cui invece inizierà, ci sarà la Supercoppa italiana ad Arabia, e quindi grandissimo spettacolo, poi in una partita che comincia subito, subito con due gol pazzeschi, con questa doppietta di Vinicius, e il tema oggi, incredibilmente, pensate, pensate, per i tifosi del Madrid, non è neanche, se vogliono un allenatore, anche perché il discorso di Ancelotti è stato archiviato, non andrà a fare il CT del Brasile, e resta praticamente all'Real Madrid, e poi bisognerà vedere quanto effettivamente della durata contrattuale. Il tema per i tifosi dei Blancos è, ma ci serve veramente Mbappé? Cioè, capite un attimo, sono lì a dire, ma alla fine, Kylian, ma in fondo, che ce ne facciamo? È Vinicius il nostro Mbappé, è Bellingham il nostro Mbappé, è anche Rodrigo il nostro Mbappé, e non solo, e c'è il gioco, e c'è il gioco. Ora, dobbiamo anche parlare comunque di un Madrid in difesa, che ha chiuso gli spazi abbassandosi tanto, ma solo in alcuni momenti, solo in alcune fasi, e veramente ci sono tante cose da dire, sicuramente il Barcellona è stato in campo molto più propenso al fraseggio corto, ritmato, quindi palla passa, ragionare, ma non sempre efficace, non sempre efficace, soprattutto nel primo tempo, dove a tratti si vedeva un Barcellona fare un ottimo possesso palla dal punto di vista qualitativo, ma senza degli sbocchi, però poi, a un certo punto, arriva il bellissimo gol di Lewandowski, che nasce proprio da una grandissima capacità di continuare con questo fraseggio corto e basso, di continuare ad insistere con questo possesso palla, che diverta sempre più avvolgente, sempre più schiacciante per la difesa del Madrid, al punto che si ritrovano i avversari in area di rigore. Se andate a vedere, sembra quasi che dovesse aver prevalso il Madrid nei tocchi in area avversaria, invece no, più o meno siamo lì, siamo lì per il possesso, però ne ha fatto di più il Barcellona, per i passaggi e ne ha fatti comunque di più il Barcellona, la precisione dei passaggi, però più o meno siamo lì, siamo sui mille passaggi totali in questa partita, con una precisione comunque intorno al 90%, anche per quanto riguarda i tiri, non è che il Barcellona abbia tirato poco o male, quindi c'è stato un grande spettacolo, grandissimo gioco, anche con dei salvataggi difensivi che sono stati necessari all'inizio, soprattutto da parte di Arauco, che poi paga questa seconda ammunizione che forse poteva anche non starci, la butto lì, cioè alla fine lui va in ritardo a calciare in maniera un po' così, irruenta un po' imprecisa, il pallone prende il piede, però forse poteva anche non essere giallo, ma lasciamo stare questo dettaglio che incide più che altro nella dinamica tattica finale di una partita che però aveva già detto quello che doveva dire, perché magari l'errore non è stato, cioè il problema per il Barça e per Xavi non è stato neanche l'espulsione di Arauco, ma prima, quando ha fatto il triplice cambio, perché toglie Ferran Torres, Pedri e Sergi Roberto, e inserisce Fermin Lopez, Joao Felix e la Mignamal al 61esimo, dopodiché arriva il 4-1 di Rodrigo al minuto 64, 3 minuti dopo, 2 minuti dopo, segna Rodrigo in un'azione, vabbè, poi, cioè bellissima Vinicius, Bellingham che appoggia per Rodrigo che completa con il 3-0, con il 3-1, ma la tripletta di Vinicius tutta nel primo tempo, ho compreso anche il calcio di rigore, e anche lì, insomma, nessun dubbio, perché era proprio su Vinicius, viene praticamente fermato col braccio su un cross dove probabilmente l'avrebbe incornata in porta, ma forse sono i primi due gol di Vinicius che sono veramente stupendi per organizzazione, per idee, per sviluppo di gioco, e lì sembra quasi banale dire il Real Madrid ha fatto gol di ripartenza, ha fatto gol, diciamo, di contropiede, con il lancio lungo, e però è la bellezza, se andate a vedere, è proprio la bellezza dell'esecuzione, dell'idea, dell'attacco della linea difensiva, dall'altra parte però c'è da, diciamo, fare, segnalare un errore piuttosto grave alla difesa del Barcellona e all'organizzazione che Xavi avrebbe dovuto dare, cioè non puoi veramente farti prendere così letteralmente in contropiede sul filo del fuorigioco, ma anche meno, cioè proprio in posizione regolare abbastanza netta sia sul primo lancio che sul secondo, sia sul primo che sul secondo gol, tra l'altro a stretto giro, settimo e decimo minuto, dopo dieci minuti praticamente la partita era finita perché sei sotto 2-0 con il Real Madrid per andare a pareggiare costa veramente tanto impegno, tanta fatica, tante impegno e fatica che il Barcellona ha impiegato ma non è riuscito a fare molto per anche impadronirsi dell'inerzia della partita, per cui c'è stata una buona costruzione da parte del Barcellona con De Jong, Gundogan, poi però è difficile veramente fare gioco sugli esterni, difficile essere incisivi lì dove si poteva magari aprire qualche spazio. Questo perché? Perché la differenza è stata proprio questa il Real Madrid in fase difensiva ha saputo mettersi anche basso in contenimento schiacciato, compresso, chiudendo le linee ma praticamente mai ha fatto difesa e contropiede praticamente mai c'è stata qualche azione in cui stando in difesa hanno provato ad andare di nuovo soprattutto nel secondo tempo ad andare di nuovo di lancio lungo mentre quando era il Barcellona in non possesso lasciava indubbiamente più spazi, era un Barcellona più lungo che lasciava più spazi ma anche come movimenti individuali per cui ci sono stati dei momenti nel secondo tempo in cui il Real Madrid si passava il pallone tra le linee con una maestria, con una precisione, con un'efficacia, con una pulizia che sono stati impressionanti con la difficoltà, quasi l'impossibilità del Barcellona di intervenire, di intercettare non hanno saputo secondo me fare il giusto pressing in quella fase lì che poi ci sono state tante fasi cioè è stato questo momento in cui il Barcellona era più basso e non ha fatto un pressing molto aggressivo il momento in cui come dicevo il Real Madrid è stato più compresso dietro il momento in cui si è giocato anche a un certo punto in campo aperto o il Madrid si è un po' più allungato quindi ha concesso un po' più di spazio di manovra. Come sempre si tratta di partite avvincenti, affascinanti, belle, emozionanti anche per chi non tifa nessuna delle due squadre quindi partite che onorano il calcio che rispettano i tifosi locali o meno ma partite anche molto complesse complesse che si fa fatica a comprendere in tutte le dinamiche quindi non aspettatevi da me in questo video e nei prossimi in cui parlerò di calcio giocato di calcio giocato anche nel mese di calcio mercato delle spiegazioni chissà quanti illuminanti si tratta semplicemente di scambiarsi delle opinioni dei punti di vista e anche delle emozioni per ricordare per fissare che partita è stata che partita abbiamo vissuto e per trarne un insegnamento su quello che possiamo e dobbiamo pretendere per le prossime partite che andiamo a guardare della nostra squadra del cuore ma di qualsiasi squadra di quello che ci aspettiamo di quello che vogliamo vedere quando c'è il pallone che rimbalza o scorre sul prato verde quindi da dire l'ottima interpretazione della partita per quanto riguarda il Real Madrid da parte di praticamente tutti mi viene in mente anche Rudiger che ha dato grosso supporto all'azione d'attacco in alcuni momenti Bellingham praticamente imprendibile nei movimenti Vinicius in grandissima serata manco a dirlo anche con grossa dose di entusiasmo per caricare il pubblico Rodrigo sicuramente più nella partita e più efficace che qualche gara recente anche grande partita di Chouameni in mediana anche è un Real Madrid che ormai fa assolutamente a meno per quanto prima o poi doveva capitare di Modric che pure dà il suo contributo e quindi può giocare cross insomma con Chouameni poi entra o gioca titolare magari Valverde insomma grandissima qualità grandissimo ritmo intensità bellissime azioni sembra banale dover dire questo dal punto di vista quindi tattico e quindi dell'organizzazione dei difetti dei problemi che hanno portato il Barcellona a perdere così abbiamo sottolineato già il discorso dei due gol presi in pochissimo tempo in maniera imbarazzante da questo punto di vista perché contro il Real Madrid devi essere assolutamente più preparato a questo genere di situazioni ma poi con la partita completamente in salita troppo poco troppo poco da parte del Barcellona a livello di efficacia del possesso palla di efficacia della della costruzione per andare per andare poi a creare delle vere occasioni da gol e quindi abbiamo visto anche viene in mente anche questa fase questo segmento di partita un Real Madrid nel secondo tempo se non ricordo male forse anche un po' nel primo ma sicuramente nel secondo tempo che lasciava anche un po' scorso mi riferisco quello che mi viene più del primo tempo perché appunto era proprio anche sul 2-0 lascia anche un po' in fase in cui lascia anche un po' palleggiare il Barcellona ma senza rinunciare a riconquistare il pallone e stando quindi sempre attivi quindi quella gestione tra virgolette del tempo e del risultato che non è mai passiva che non è mai rinunciataria che non è difesa e contropiede ecco perché dico devi aprire la partita devi guardare per capire perché sennò ti fermi al fatto che Ancelotti sia difensivista lo è stato in alcune situazioni può tornare ad esserlo ma Ancelotti è quello che ha consentito o forse ha suggerito al Real di non sostituire Benzema perché c'era la possibilità di cambiare l'attacco cioè ha invertito il triangolo questo ormai lo sappiamo l'abbiamo detto da mesi abbassando Bellingham dietro due punte invece di mettere un'altra punta in mezzo a due esterni che poi sono gli stessi Vinicius e Rodrigo sono quelli di prima però ha inserito Bellingham tra le linee e quindi non è neanche un falso nuovo cioè Bellingham è proprio un ruolo a parte oggi nel calcio che ricorda l'archetipo di Zidane e di altri e dei numeri 10 anche se lui come Zidane è 5 del Real Madrid e quindi un giocatore tra le linee un giocatore immarcabile imprendibile che ti trovi a far da punta ma ti trovi a far da supporto anche lateralmente nella costruzione delle azioni e questo è frutto del lavoro inevitabilmente di Ancelotti lavoro che nel Barcellona si vede meno secondo me su certi possibili potenziali sviluppi poi è chiaro che questa è una partita sempre difficilissima per chiunque è una partita appunto complessa giochi contro la squadra fortissima e quindi anche se ipoteticamente il Barcellona e non credo l'abbia fatto avesse fatto la miglior partita ci avesse messo la massima qualità possibile magari avrebbe perso lo stesso perché non sarebbe riuscito a prevalere su un Real Madrid così organizzato così bene anche che è stato così bene atleticamente e nella convinzione del gioco da fare che è stato un gioco davvero come già detto emozionante allora senza ripetere ulteriormente con tantissime altre cose che ci sarebbero state da dire sui singoli sulle giocate sulle scelte sulla tecnica sulla tattica mi fermo e lascio lo spazio dei commenti per voi per raggiungere tutto quello che vorrete a questo video sicuramente carente come tutti i video come tutti i commenti delle partite così avvincenti e complesse possono poi essere non si finisce mai di dire tutto quello che c'era da dire sono spunti che servono per appunto fermare fissare nella memoria quello che abbiamo visto e le emozioni che ci ha dato una gara del genere grazie per la vostra attenzione allora buon dibattito nei commenti like al video se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale attivando le notifiche per guardare anche i prossimi video se non l'avete ancora fatto il dibattito prosegue come sempre su discord link in descrizione con tanti spazi per parlare di calcio il mio server con tante chat abbonatevi al canale a partita da 99 centesimi un mese per avere tanti vantaggi proprio su discord nelle live e non solo e seguitemi anche su avsimaut primo link in descrizione il mio secondo canale youtube ci vediamo molto presto e per il calcio voglio un allenatore grazie a tutti